alle 14.52 mi arriva questa foto mi arriva questa immagine ok raga ok questa foto questa immagine 14.52 se va tutto bene ti spiego ho scaricato il firmware manualmente ma porco di quella sto parlando col 5 per cento di voi donne perché la percentuale media del popolo femminile sul nostro canale youtube allora in questo momento forse riesco a capire come vi sentite nel pre periodo mensile vostro ok ci siamo ben capiti quando veramente quando c'è qualcuno accanto volete volete incazzarvi non capisco veramente perché tutte le sante volte che guarda e porca ma tutte ora passate o tutte ora ma dovete stare a casa cazzo tutte le macchine ora passano io veramente ma tutte le volte che decido veramente di fare un video di fare un focus ieri vi ho detto no questo smartphone sicuramente migliorerà con questa color os 7 che poi si chiama realme ui 1.0 quindi deve arrivare rollout sono settimane che leggo il rollout non arriva mai puntualmente decido di fare il video e nel forum dedicato a realme esce l'articolo con l'aggiornamento da fare in manuale che tra l'altro un aggiornamento talmente stupido da fare brava realme in questo tenendo merito perché scaricate il firmware direttamente nella root del vostro dispositivo quindi nella memoria interna ci cliccate sopra puoi aggiornare il tuo telefono sì niente di più facile quindi spettacolare veramente realme complimenti perché ci sono aziende che per fare un aggiornamento devi fare 3000 crocchi invece qui veramente tutto molto semplice limpido chiaro quindi top davvero vi chiedo anche questo voi che spiate il canale youtube devo parlare di coronavirus per fare arrivare il vaccino il giorno dopo nel video di oggi parleremo quindi di realme x2 pro sarà migliorato nel tempo sarà peggiorato cosa ha portato di positivo e di negativo questa realme ui 1.0 basata appunto su android 10 e quindi vi parlo un po dello smartphone perché secondo me rientra assolutamente nella categoria oltre a flagship killer perché le caratteristiche sono quelle ma anche alla categoria di best buy in questo preciso istante come sempre ragazzi vi ricordo di schiacciare il tasto like qua sotto è fondamentale iscrivervi al canale youtube per non perdere nessun tipo di focus anteprima arriveranno anche dei video molto interessanti nei prossimi giorni riguardanti one plus riguardanti show me altre chicche per quanto riguarda i temi che tanto mi piacciono trucchi e segreti vi racconterò tutto poi nei prossimi giorni e mi raccomando condividete il video con i vostri amici visto che ormai siamo tutti a casa quindi potete spargere la voce parliamo del focus fondamentale secondo me di questo video perché è la cosa che ha stravolto lo smartphone voglio prendere un messaggio di luca luca è un fan luca è un iscritto al canale nonché anche un sub di twitch sapete bene tutte le serie vado in diretta twitch twitch è una piattaforma che inserisce gli abbonati quindi gli utenti si possono abbonare al tuo canale twitch e per gli abbonati appunto ho creato un gruppo telegram privato quindi faccio entrare solo gli abbonati e possono condividere le loro passioni con me quindi ad esempio luca è un appassionato di smartphone lo saluto ma tanto vedrà sicuramente questo video vi dico solo che ha iphone 11 pro max s20 plus mi 9 light real mix 2 pro quindi non è un utente così a caso è un utente molto molto appassionato e come potete vedere ci siamo scritti abbastanza ieri mi ha mandato le foto che poi vi farò vedere fatte con x 2 pro visto che lui ha un giardino quindi può testare meglio lo smartphone rispetto a me che sono in appartamento e quindi mi ha detto è incredibile come un aggiornamento software può trasformare così un telefono migliorato notevolmente a mio avviso anche la one ui ha fatto la stessa cosa con samsung dal punto di vista estetico la pesantezza non altrettanto allora queste sono considerazioni secondo me molto interessanti finalmente è arrivata questa nuova interfaccia la realme ui 1.0 un'interfaccia che è praticamente identica tra virgolette alla color os 7 questo perché è ovvio che a livello aziendale oppo ha la sua interfaccia alla color realme ha chiamato la sua interfaccia realme ui e secondo me hanno fatto anche bene proprio per differenziare le due realtà anche se poi fanno parte della stessa famiglia ci mancherebbe altro e lo sappiamo tutti allora secondo me la realme ui porta veramente una ventata di aria fresca a questo smartphone a differenza di samsung come ha detto benissimo luca porta uno a livello grafico un'interfaccia secondo me molto molto carina che assomiglia un po ad android stock che gli manca secondo me solamente la chicca di poter cambiare il pacchetto icone al launcher di default queste sono chicche da recensore meglio sono chicche da chi ama veramente la personalizzazione sul proprio smartphone questo per non andare a cambiare launcher vedi oneplus oneplus oxygen os posso cambiare il pacchetto icone di default non devo andare a installare un launcher alternativo se ti piace modificare l'interfaccia grafica dello smartphone e quindi iniziare a personalizzare il tuo prodotto la realme ui 1.0 vi dicevo porta un livello grafico superiore rispetto alla color os 6 non c'è neanche paragone ragazzi l'avere finalmente un menu delle impostazioni tutto ben delineato con icone con veramente tutto studiato al meglio ecco secondo me sono dettagli importanti perché l'utente non compra solo hardware quindi non compra il ferro no se il dragon 855 plus tanta ram tanta velocità di spiega 90 hertz però poi cacchio io accendo lo smartphone io me lo guardo e deve essere anche curato il prodotto deve avere secondo me le caratteristiche tecniche giuste per essere concentrato rapporto qualità prezzo hardware ma anche estetica io lo guardo il prodotto io guardo la mia interfaccia io ci passo le giornate sullo smartphone e se è brutta se non è all'altezza magari di una one ui di un oxygen os di una mi ui di una mi ui allora è palese che dopo un po posso anche guardare altrove realme ha fatto un ottimo lavoro veramente un ottimo lavoro su questa interfaccia e vi ripeto è secondo me un plus da non sottovalutare su questo segmento di prezzo ma è un plus anche sugli smartphone oppo c'è il focus di ieri riguardante la color os che poi è uguale alla realme ui quindi guardate il video di ieri perché vi faccio vedere alcune chicche che sono presenti anche in questa versione a chi consiglio questo smartphone a chi consiglio ad oggi dopo la recensione dopo mesi questo questo prodotto allora lo consiglio a chi cerca uno smartphone veloce rapido display con refresh rate 90 hertz con la nuova interfaccia si può settare tutto in automatico quindi dove c'è bisogno di 90 hertz lo smartphone entra con quella velocità dove c'è bisogno di 60 quindi di andare a risparmiare perché proprio l'applicazione che stiamo guardando non li supporta allora in automatico si va a 60 funzione che è basilare per consumare meno batteria e per non sprecare energia sullo smartphone se siete degli utenti che volete la velocità sul prodotto uno snapdragon 855 plus un 128 gigabyte di storage interno 8 gigabyte i ram di tipo lp ddr4 nel 2020 vi possono offrire sicuramente tutto quello che cercate in uno smartphone quindi velocità stabilità volete giocarci lo potete fare una batteria 4000 mAh con ricarica supervook integrata da 0 a 100 in 35 minuti quindi capite bene che lo smartphone è adatto praticamente a tutti se siete degli utenti che amate la musica cablata con jack da 3,5 qui abbiamo anche il jack da 3,5 con audio dolby quindi veramente abbiamo un'esperienza a livello multimediale fortissima su questo realme x2 pro se come me amate i display ma i bei display quelli super amoled con una buona luminosità con millenitz di picco massimo hdr 10 compatibile un display full hd plus 1080 per 2400 pixel 402 ppi questo è un display che va bene questo è un display che si vede bene sotto luce diretta del sole e adesso che la realme ui integra di default la modalità dark si risparmia anche batteria quindi veramente i contrasti sono elevati realme ha montato dei display ma non solo su x2 pro anche su 5 pro ma anche su x2 davvero di qualità come si comporta realme lato aggiornamenti questa è la domanda più importante in questi mesi ho potuto constatare che realme deve migliorare lato aggiornamenti software questo perché le patch di sicurezza non sono state puntuali e sapete quanto io sono pignolo in questo quindi i pregi ci sono ma se siete degli utenti che volete l'aggiornamento tutti i mesi non è lo smartphone da tenere in considerazione se invece non ve ne frega niente degli aggiornamenti puntuali e precisi allora potete tenere in considerazione questo smartphone anche per tutte le qualità positive che ha lo smartphone c'è da dire però anche questo le aziende migliorano nel tempo samsung non aggiornava mai i suoi dispositivi adesso è puntuale precisa tutti i mesi quindi se c'è lavoro c'è anche la possibilità che possa migliorare anche realme lato aggiornamenti considerate che è arrivata adesso quindi ha solamente da migliorare vi piacciono le foto vi piacciono i video ecco è migliorato anche sotto questo aspetto vi lascio adesso qualche scatto eseguito da luca ieri in modalità macro con una bella luminosità è comunque facile forse scattare in queste condizioni ma vi possiamo assicurare e ci siamo confrontati che prima la messa a fuoco soprattutto la precisione non era così migliorata anche questa con il nuovo aggiornamento software c'è un prezzo da pagare su questo smartphone assolutamente sì allora la versione 828 e qui arriva forse il nocciolo del video 383 euro adesso su ebay mentre se volete amazon perché magari di ebay non vi fidate 419 euro vi ripeto le caratteristiche ottimo display con refresh rate a 90 hertz buona ricezione parte telefonica buon audio multimediale con jack anche da 3 e mezzo un buonissimo display una realme ui che adesso fa veramente la differenza avete 90 hertz avete veramente la velocità di uno snapdragon 855 plus che io penso nell'80 per cento dei casi non serva andare su un 865 di oggi visto che comunque l'ottima stabilità l'ottima affidabilità hardware che hanno questi smartphone quindi con 420 euro se volete acquistarlo su amazon vi portate a casa un prodotto che ad oggi è sicuramente tra i consigliati senza ombra di dubbio su questa fascia come sempre tutto lo staff di evosmart.it vi saluta vi ringrazio e vi aspetta stasera in diretta su twitch dalle 21 e 30 alle 23 e noi ci vediamo come sempre puntuali domani alle 14 per un nuovo video ciao a tutti ragazzi